benvenuti in un nuovo video oggi siamo qui con il nostro appuntamento mensile per aprire la degusta box del mese di giugno iniziamo dubbio perché ragazzi si muore cioè fa proprio caldo 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 ci sa molto leggera io ho vista vista per nulla pesante ovviamente vi ricordo che se volete soffrire della vostra prima box e pagarla solo 9 euro e 99 invece di 16 euro mi lascio il link solamente in cui voi acquisterete a me rilasceranno 50 punti ma anche con voi e così via ovviamente loro in estate non mancano mai le liquidizie a goleador sono sempre sempre presente io vedo una box molto colorata comunque che cos'è allora fragola strawberry dressing ideale su formaggi e aceto qualcosa del genere andrea milano sempre sembra un bottiglino di shampoo noi abbiamo ancora quello la tartufo che lo stanno usando tantissimo perché con la carne ovviamente parliamo di estate non può non esserci dei come si chiamano ma si mai sono degli snack al maiz con l'abilitivo questi mi fanno proprio buona vedo belli aromatizzati si si greffo ci vediamo Bridgerton che ancora non è già la seconda parte ovviamente la prima parte l'abbiamo conclusa settimana scorsa fatevi un po voi i calcoli e oggi è il 19 giugno oggi è il 19 giugno poi biorg protein al cioccolato è una bevanda vegetale e poi c'è una bevanda vegetale che 100 per cento vegetale questo cioccolato questa da mettere in frigo e da provare un po' di cose fresche da provare da provare vai una birra una birra 86 original intense blonde beer non può mai mancare quindi sarà una bionda sicuramente bella queste qua sono molto buone una fruizzita non ho un fusti pesca e rosa questa l'ho provata ti ricordo per esempio l'anno scorso due anni fa abbiamo poco a morire sempre questi teo e abbiamo provato sempre buono però questo è buono freddo ci sta bella situa mai siamo avanti potremmo fare pure il padre ma bello questi mi ispirano bello anche perché si è scritto sopra intenzione limitata questo è pure con terri delicatamente dolce con semi di papà e di sesamo però anche salato questo è buono, quello da fare con l'occhio che finisce i crostini perché giustamente le insalate le insalate questo è qui cotto al forno pepe nero con pepe nero e sale marino questo ci piace le insalatine con la tagliata del pollo ci stiamo girando attorno a questo pacco un'altra mango e camomilla sfiziosina è quasi come un pomeriggio faccio un vlog apriamo tutto e ci facciamo una bella sbaglio l'oro oh questo mi ispira bpq white alabama style quello devo provare comunque il panino allora secondo me devo vedere un po' tutte le cose che devo provare vi devo fare una bella programmazione un bel panino insalata pomodoro bacon non so perché mi viene in mente la pannella la pannella come si chiama la pannocchia secondo me ci piace vai pesca ultimo penultimo penultimo mister day brownies al cioccolato da provare anche questo ci sta e ultimo ovviamente non può mancare anche nella vecchia box che ce l'abbiamo ancora lì aire action wow wow questo è con il cosa dentro ok leggiamo le brochure che dici cosa ne pensi molto fresca allora ok grazie ok ok la ricosta box la cold box allora prodotto del mese salsa devley 2 euro e 39 ok wow poi la birra 1,89 le gole ad ora liquidizza 2 euro e 49 il burger roberto 2,29 fonzis 1,59 mister dei 3 euro e 19 la bevanda vegetale 3 euro e 49 fius di 0,99 centesimi ciascuno crossini 1 euro e 19 air action vigor sol 1,90 la glassa la fragola c'era anche l'opzione al limone o a 4 euro e 50 e il mister corn quindi il mais piccolino bbq 1,45 1,45 1,45 punti extra oggi sapete che pensiero mai di quale comunque i brick quelli là biologici 100% al cioccolato ovviamente il prezzo non è per singolo brick alla confezione ok quindi nulla ne speriamo che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video ciao 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 ciao